Allora, io prima di tutto faccio un solito ringraziamento e saluto da parte dei curatori e degli organizzatori di Pordenone Legge per augurarvi buon incontro e anche buon festival e per ringraziare anche voi di seguire questo incontro e augurarvi buon incontro e buon proseguimento di festa e soprattutto per ringraziare Sir Michael Penning che ha accettato il nostro invito Pordenone Legge in collegamento e che adesso dovremmo vedere apparire sullo schermo. Eccolo, grazie davvero di aver accettato il nostro invito e lo dico anche personalmente perché io sono un fan dei Monty Python in un modo spudorato e devo ringraziarlo personalmente perché io ho passato tante serate con la mia famiglia, con gli amici solamente a ricordare le battute del loro film e quindi neanche a vederli, solamente a ricordare le battute e ce le dicevamo e ridevamo come matti e di tutte queste serate che passate veramente a divertirci vorrei ringraziarlo. Io credo che Monty Python siano i Beatles della comicità, una comicità prima di Monty Python e una comicità dopo di Monty Python e questo secondo me serve veramente un grande ringraziamento mio personale e credo di tutto il pubblico. Però questa sera non parliamo di Monty Python e parliamo invece di un libro molto molto bello perché forse in Italia non è così noto ovviamente come in Inghilterra che Michael Pellin è stato anche un grande documentarista di viaggio e è stato anche il presidente della Royal Geographical Society, ha ricevuto moltissimi riconoscimenti per questa sua attività così bella e questo è un libro che ricostruisce una vicenda straordinaria, una vicenda leggendaria che ha segnato veramente un'epoca all'epoca delle grandi esplorazioni nell'Ottocento inglese, è la storia di una nave, l'Erebus che ha vissuto appunto alcune delle più inimmaginabili, tragiche, eroiche e meravigliose vicende. È una nave che ha esplorato il sud del mondo fino ai ghiacci artici, dell'Antartide sfidandoli, andando fino in mezzo a cercare il polo sud magnetico ed è una nave che scomparsa misteriosamente invece alla ricerca del passaggio del nord-est. e del nord-ovest. Era una nave che era anche all'avanguardia della scienza dell'epoca ed era una nave anche investita di una certa idea di civiltà, di controllo, di idea di mondo. Era un po', se vogliamo fare un paragone, un po' come la Google o la Tesla dei giorni d'oggi, insomma, come stanno cercando di fare delle macchine elettriche a Veneri, quella era la nave che rappresentava lo spirito scientifico dell'epoca. E anche l'idea, se vogliamo, della centralità dell'uomo occidentale o comunque in questo caso soprattutto inglese, dell'impero inglese. Ecco, e come spesso succede quando ci si affida molto forte a una certezza di questo tipo, a volte poi le cose non vanno così bene. E questa appunto è una storia che ha un finale tragico e un finale misterioso che cercheremo appunto di raccontare. Ma la prima domanda che volevo fare riguarda invece la prima frase del libro, che è questa. Ho sempre subito il fascino delle storie marinare. Ecco, allora mi chiedevo da dove nasce questa passione e se la letteratura ha avuto un ruolo. Prodenone legge un festival letterario e quindi volevo sapere se questa affascinazione per le storie marinare è anche un passato, diciamo, letterario. Well, thank you. Thank you very much for your very generous introduction. I'm sorry I can't sell you any parrots or anything like that today, but I don't have any with me. I think that, as in Italy, Britain has an enormously long coastline. The sea is very much a part of our history. We learn about the Spanish Armada. It's one of the earliest things we learn about. We learn that Francis Drake, you know, was the first to travel around the world. But for me, it was a question of being brought up in a town called Sheffield, city called Sheffield, which was about 85 miles away from the nearest sea, which made it probably one of the, you know, somewhere that was right in the middle of England. And we very, very rarely went to the sea. And I was fascinated by the sea. We went for a holiday in the in the summer. But what I did was when I came home was read whatever books I could about the sea from, you know, the classical stories of Jason and the Argonauts, through to a wonderful character called Captain Horatio Hornblower, who sort of was a captain of a ship in the in the in the 18th century. So I read, I read a lot. I saw the ocean around the country as a sort of escape for me, somewhere fascinating, but also somewhere utterly different from where I was living. Innanzitutto grazie per questa presentazione così generosa. Beh, purtroppo non ho alcuni, non ho pappagallini da vendere oggi, mi dispiace, ma me li percurerò per la prossima volta. E comunque, così come qui in Italia, anche nel Regno Unito c'è una linea costiera molto molto lunga, è un'isola e quindi il paese è praticamente costituito da coste e il mare ha sempre fatto parte molto integrante della nostra storia britannica. Basti pensare che una delle prime cose che si imparano a scuola è proprio l'armata spagnola, la famosa spanish armada. E io personalmente sono sono cresciuto a Sheffield e in questa città, questa è la città che probabilmente dista di più di qualsiasi altra città dal mare, addirittura 85, miglia. Si trova proprio al centro dell'Inghilterra e proprio per questo noi come famiglia andavamo molto raramente al mare, solo ogni tanto trascorrevamo qualche vacanza estiva. Ma io ero affascinato dal mare e mi ricordo che quando tornavo a casa passavo il mio tempo a leggere libri, romanzi, a documentarmi proprio sul mare. Ad esempio la storia di Giasone degli Argonauti, oppure questa storia del capitano Orazio Hornbler che risaliva al diciottesimo secolo. Quindi per me questo mare che circondava il mio paese rappresentava da una parte una via di fuga e esercitava su di me un fascino molto molto forte proprio perché era totalmente diverso dall'ambiente in cui ero cresciuto. Ecco si sente nelle pagine di questo libro veramente molto bello che c'è questo fascino, cioè i luoghi vengono visti, vengono assaporati, vengono raccontati, c'è sempre la fascinazione per il viaggio, per l'avventura e questa è una sensazione portante veramente di tutto il libro che probabilmente appunto che come ci ha raccontato risale appunto all'infanzia e a queste prime letture. Però c'è una coincidenza che ha creato appunto l'occasione di scrivere questo libro e racconta appunto nel libro che aveva tenuto Michael Pellin una conferenza su Ucker che scopriremo un botanico che era andato a fare un viaggio con l'Erebus e aveva conosciuto la storia appunto dell'Erebus che si era annidata nella sua testa. Poi leggo appunto che si era esibito con i Monty Python all'arena di Greenwich, il suo gruppo di amici decrepiti così lo definisce in uno spettacolo Monty Python Live One Down Five To Go e dopo questo spettacolo ha sentito non posso andare avanti in questo modo, devo trovare qualcosa da fare di diverso e a un certo punto la risposta gli arriva. Ecco, qual è questa risposta? Cos'è successo che ha unito insomma questa fascinazione per la storia dell'Erebus e poi la decisione di scrivere il libro? Grazie mille And on the 9th of September 2014, just about three weeks after we'd done our show, the Canadian Prime Minister went on international television to announce that the remains, the wreck of HMS Erebus had been discovered beneath the waters of the Canadian Arctic Ocean. They had been looking for it for many years, the Canadians particularly fascinated by the story. And it was on that day in September that they finally discovered it. And this, of course, made the story not just as the possibility of a story, not just giving it a beginning and an end, but a beginning again. You know, the ship was there, they were going to explore it, they were going to find what was left on the ship. This could, uh, you know, the ship was there. They were going to explore it. They were going to find what was left on the ship. This could be a answer many, many fascinating questions and reveal extraordinary and wonderful things, which it has in the last four or five years when they've been able to get down there. So it was the discovery of Erebus beneath the waters in, uh, in 2014 that made me decide this has got to be written. You know, it's saying, come here, here I am, write about me. Ed ecco quello che è successo. Più o meno due settimane dopo questo affortunato show dei Monty Python, che appunto si era tenuto all'arena O2 di Greenwich, improvvisamente, tra l'altro ricordo che è stata un'esperienza straordinaria per il pubblico quell'ultimo show, io avevo questo pensiero che continuava a tormentarmi. soprattutto mi chiedevo, ma adesso che cosa posso fare, che svolta posso dare alla mia carriera? E c'era anche quest'idea dell'Erebus che continuamente mi passeggiava per la mente, per così dire, ma non sapevo bene che cosa ne sarebbe saltato fuori. E poi, improvvisamente, il 9 settembre del 2014, il primo ministro canadese compare sulla television, un canale internazionale, e annuncia il ritrovamento del relitto proprio dell'Erebus, che era stato scoperto nelle acque dell'oceano artico canadese, appunto. I canadesi, va detto, che si erano presi a cuore un po' questa vicenda, ed era da anni che cercavano questo relitto, e finalmente l'avevano scoperto. E quindi io mi sono detto, questa è, c'è veramente la possibilità di una storia, intravedo proprio in nuce questa storia che può nascere, e questo non è solo la fine di una storia, cioè abbiamo trovato la nave finita, è bensì anche un nuovo inizio per questa nave, perché a questo punto inizieranno ad esplorare, a studiarla, tante domande troveranno una risposta, verranno rivelate grandi cose straordinarie, ed è quello che è accaduto, infatti, negli ultimi 4-5 anni. E quindi la scoperta dell'Erebus mi ha fatto decidere, beh, devo assolutamente mettermi a scrivere riguardo a questa vicenda. Ecco, l'Erebus che era scomparso misteriosamente 170 anni prima, e che rimaneva un mistero, perché nessuno l'aveva trovata, non si sapeva niente, riappare. Ecco, e da qui la decisione di scrivere un libro. Ma andiamo a capire un po' meglio che tipo di nave era. L'Erebus nasce come bombarda, era una nave da guerra. Ecco, a cosa serviva, almeno nelle prime intenzioni? E ha mai servito veramente a questo scopo? L'Erebus Purpose Folvore Il Per Un Abbitudine Orgola Orgol Il In Il Si Un Kurt Son mathematical very strong deck because the mortars themselves were very heavy and that's why the class of bombship were given names like Erebus and Terror and Fury and all very very sort of emotive names for death and destruction. Erebus itself never saw action as a bombship. The Napoleonic Wars had ended by the time she was built but the last time a bombship was used was at the battle the siege of Baltimore in America in the war of 1812 one of our wars against America we didn't have that many but there we are but anyway the explosions were noted to have such an effect that they actually become a part of the Star Spangled Banner the um I think the song of the rockets red glare and the bombs bursting glare and that refers to bomb British bombships uh besieging Baltimore in 1812 not sadly Erebus but it did make them very they were meant that they were very strong ships which is very important in the rest of the story Sì dunque l'obiettivo lo scopo per cui la finalità per cui era stata costruita questa nave era per ospitare dei mortai estremamente pesanti a bordo sul proprio sopra il ponte questi mortai erano stati concepiti proprio per lanciare delle granate che dovevano colpire dal mare le città sotto assedio quindi si può dire che fosse una nave d'assedio sostanzialmente quindi era dotata di un ponte estremamente forte estremamente robusto e tutte queste navi avevano tutti questi nomi diciamo così altamente motivazionali c'era l'Erebus il terrore la furia eccetera eccetera però l'Erebus di per sé non venne mai utilizzata come nave bombarda non dimentichiamo che le guerre napoleoniche erano finite a quei tempi e l'ultima volta che si era utilizzata una nave era guerra era era stato durante l'assedio di Baltimora appunto in questa una delle poche guerre che noi abbiamo fatto contro gli Stati Uniti non sono stati tante nel 1812 e si era notato che le esplosioni di queste granate lanciate da questa nave erano così efficaci che avevano addirittura conquistato la fantasia degli americani tanto da comparire in una canzone che poi lui canta ma io non la ricanto in uno standardo infatti questo però non riguardava l'Erebus le altre navi britanniche ma solo per dire quanto venivano considerate forti e resistenti le bombarde britanniche ecco nasce come nave da guerra le guerre napoleoniche sono finite e si pensa invece a qualcosa di diverso quello che diventa cruciale appunto per l'impero inglese è l'esplorazione la conoscenza questa diventa una nave di conoscenza e adesso intanto abbiamo visto qual è la nave cominciamo a vedere i protagonisti della storia perché le loro vite si intrecceranno prima dell'utilizzo dell'Erebus in un'altra vicenda che poi sarà anche la conclusione della storia che è la ricerca del passaggio a nord ovest appunto il passaggio che poteva portare dall'Atlantico al Pacifico passando da nord i tre protagonisti di questa storia sono appunto John Franklin che tenterà per primo un passaggio a nord ovest rimarrà chiuso costretto prigioniero dei ghiacci per molto tempo sarà costretto a mangiarsi addirittura le scarpe lui e i suoi compagni per riuscire a sopravvivere e scriverà un libro molto importante che diventerà un bestseller dell'epoca poi c'è James Clark Ross che era uno degli uomini più belli della marina uno degli uomini più attrenti della marina e così lo definisce la moglie di John Franklin e questi sono i due personaggi chi erano ecco se vuoi un po' raccontarci la loro storia i loro caratteri perché c'è molta in questo libro anche molto racconto dei caratteri di questi due uomini così diversi fra di loro però tutte e due molto determinato yes the personalities are very important John Franklin was sort of like the English John Bull character he was quite sort of round he loved to eat he loved to entertain he liked to have lots of friends around him he wasn't a great intellectual but he was a man who loved travelling himself he had made two or three expeditions to the arctic before he took on the captaincy of the Erebus and as you rightly say one of them he nearly died and they run out of food and had to just suck the leather off their their shoes and so he became known as the man who ate his shoes which helped sales of his book enormously because you know people like a little bit of a sort of an ordeal James Clark Ross who was I think the better sailor was the captain of Erebus when they went to the Antarctic he was he was a Scottish Presbyterian rather more serious a man he was very dashing but he was also careful thorough precise he didn't quite have the the wit and joie de vivre of Franklin but he was he was a much much better sea captain sicuramente le personalità svolgono un ruolo fondamentale appunto nelle vicende che io descrivo nel libro innanzitutto abbiamo John Franklin che si potrebbe paragonare ad un attuale John Bull inglese se si vuole un po' tarchiato amava tantissimo mangiare intrattenersi e chiacchierare con gli amici una personalità molto gregaria non molto intellettuale per così dire un amante veramente sfegatato dei viaggi per non dimenticare era stato già due aveva partecipato già a due tre spedizioni nell'artico prima di assumere il ruolo di capitano dell'Erebus e in una delle spedizioni come citi giustamente tu aveva quasi perso la vita tanto che lui e il suo equipaggio erano stati costretti a ciucciarsi proprio la pelle degli stivali e così era diventato aveva assunto questa fama di l'uomo che si era mangiato gli stivali che si era mangiato le scarpe e questo ha aiutato enormemente nella vendita del suo libro perché quando uno si presenta così ovviamente incuriosisce i lettori e poi abbiamo appunto James Clark Ross che sicuramente era un uomo di mare più dotato più provetto rispetto a lui e che aveva capitanato l'Erebus nella spedizione dell'Antartico scozzese molto elegante raffinato nello stesso tempo preciso attento cauto sicuramente non era dotato della sagaccia e della gioia di vivere di Franklin però sicuramente era anche un capitano migliore ecco e poi vorrei soffermarmi su un altro personaggio che è secondario rispetto a questi due che saranno i due capitani delle due più importanti missioni dell'Erebus quella appunto nell'Antartide e quella alla ricerca del passaggio del nord ovest c'è però un altro personaggio che vediamo appunto all'inizio perché Ross in una spedizione di salvataggio per alcune baleniere che erano rimaste incagliate nei ghiacci ha avuto l'idea di scegliere come primo luogotenente Francis Crozier ecco che è un uomo che viene definito come l'uomo destinato ad essere secondo ecco che era molto abile anche molto preciso ma quasi incapace di assumere la guida essere il leader si innamora di una donna che non lo riama insomma è un personaggio molto che a me è molto colpito insomma in questa vicenda I'm glad you noticed him because I think he's the most interesting character in the book interesting male character there's a very good female character Crozier was an Irishman James Clark Ross was Scots Franklin was very English and there is some feeling that he felt slightly inferior because he'd come from Ireland he wasn't from London he wasn't sort of known to the Admiralty very well and this gave him a slight complex about leading expeditions but he was the second in command on both the expeditions to the Antarctic for four years and later to the Northwest Passage and he was chosen because he understood he understood ships he understood crews and men they loved him very much but he himself had a sort of crisis before he left for the Northwest Passage it wasn't just a romantic affair that didn't work out it was also he wasn't sure if he was good enough to lead on these expeditions but here's a really interesting thing I think James Clark Ross was a very good friend of Crozier Franklin was not a friend when James Clark Ross decided not to go to the Northwest Passage Crozier decided that perhaps he should go because he would take the spirit of James Clark Ross to him and that someone like Franklin who was more interested in the dining table than perhaps you know the crossing the globe needed the help that he might give so he was a very interesting man I think lacking in confidence but extremely good at the job he did mi fa molto piacere che tu abbia notato questo personaggio perché in effetti è il personaggio secondo me veramente maschile più importante poi ce n'è anche uno femminile molto importante ma mi fa piacere che tu l'abbia notato dunque Crozier era irlandese d'origine quindi abbiamo lo scozzese Ross e l'inglese proprio più rosangue Franklin e proprio per questo lui in un certo senso si sentiva un po' inferiore rispetto agli altri due perché non aveva una gran fama non era molto noto presso l'ammiragliato e poi riteneva aveva una personalità un po' troppo complessa per riuscire a diventare un vero e proprio leader e quindi diventa diciamo il secondo uomo e in questo senso proprio con questa carica partecipa sia a una spedizione nell'Antartide durata quattro anni e poi soprattutto a quella del passaggio nord-ovest e viene scelto proprio perché conosce perfettamente le navi ha un ottimo rapporto con l'equipaggio infatti l'equipaggio lo adora e tuttavia si dice che si è entrato veramente in crisi prima di partire per la spedizione per il passaggio nord-ovest non tanto per questa storia romantica non ricambiata ma quanto perché non era sicuro di essere all'altezza e va detto che con gli altri due capitani c'era un tipo di rapporto diverso perché Ross era molto molto amico di Crozia e invece Franklin non lo era e nel momento in cui Ross decide di non partecipare al passaggio nord-ovest Crozia invece decide di andare perché riteneva che Franklin fosse più interessato come lui ad avere a partecipare a banchetti a festeggiare con tutti i suoi compagni con l'equipaggio piuttosto che ad attraversare il globo e a scoprire cose nuove una personalità decisamente interessante quindi forse con troppa poca autostima ma sicuramente bravo nel suo lavoro ecco questi sono i personaggi abbiamo visto la nave i personaggi adesso vediamo la prima missione importante la missione è quella che porta l'Erebus in Antartide ecco lo scopo della missione è la misurazione del magnetismo terrestre l'Antartide all'epoca aveva una fama pessima perché come sapete Coleridge finisce il suo poema che appunto vanno appunto nell'Antartide con un disastro totale nel romanzo di Edgar Allan Poe l'Antartide è visto come un luogo di pericoli depravazione, naufragi, cannibalismo un luogo di gelo e oscurità ecco perché era tanto importante all'epoca esplorare l'Antartide? I think the Antarctic was important because it was one of the few remaining unknown parts of the world un mapped a bit like sort of Central Africa at the time and this was an age when people wanted to know more they wanted to be they felt they now had the ability to solve problems which in the past had been much more difficult it was post-enlightenment times they knew more about navigation and they wanted therefore to use this new knowledge to explore the unknowns of the world of which the Antarctic was perhaps the main one and I think it's interesting that the Antarctic expedition was in fact as near as possible an international enterprise there was Humboldt, the German there was a Frenchman called Durville there was an American involved information was shared it wasn't like the second expedition to the Northwest Passage was a bit of imperialist rather a sort of we can do it no one else can there was a brief moment with the with the first expedition to Antarctic when it was a scientific expedition shared by the world's scientific community and that was something that's really not been done before because the knowledge that was acquired in the 19th century and late 18th century was just being digested and was giving a feeling to people that they could do anything and go anywhere Well, Antarctica was important especially because it was one of the few inesplorated and not yet mappated of the earth in that period a little bit of the center of Africa forse, at that time and in that time the people wanted to know everything they wanted to expand enormously their knowledge because they wanted to have the capacity and the competencies to be able to solve any problem and we forget that we are in the era immediately to that of the Illuminism in which the men had acquired extreme enormous knowledge and so they wanted to put them in the fruit just to explore all the world to explore the ignoto and the apotheosis of this ignoto was represented just by Antarctica there was this first expedition in Antarctica which can be considered as a sort of an international company that was really international because it involved a certain Deville francese then Humboldt il matematico tedesco e addirittura anche un americano mentre invece la seconda spedizione fu più improntata all'imperialismo noi britannici possiamo sicuramente conquistare il mondo ma tornando alla prima spedizione dicevo era veramente caratterizzata era molto scientifica e era condivisa in un certo senso da tutta la comunità scientifica mondiale non era mai stata osata prima un'impresa del genere lungo tanto ardore tanto ardimento proprio perché la conoscenza che risaliva all'illuminismo era appena stata digerita per così dire e gli uomini volevano dimostrare di poter andare ovunque nel libro viene citata una frase di un astronomo Sir John Herschel e che appunto quando fece presenti le ragioni appunto per una spedizione antartica dice che le grandi teorie fisiche con il loro seguito di conseguenze pratiche sono prevalentemente oggetti ah non senti allora ripeto la domanda dicevo che appunto nel libro viene citata una frase di un astronomo Sir John Herschel che dice che appunto per giustificare le ragioni della spedizione in Antartide che dice che le grandi teorie fisiche e le scoperte scientifiche sono oggetti nazionali e servono alla gloria anche della nazione ecco e c'è quindi come diceva prima uno sprone un po' sciovinista a questa ricerca scientifica che mi ha ricordato anche cose molto contemporanee come la lotta per lo spazio fra americani e russi e adesso invece la ricerca del vaccino del covid che sembra che sia un affare ecco nazionale ecco c'era un po' questo aspetto insomma di ricerca e di porre come centrale ecco l'impero britannico nella scienza che si chiede On the way to Antarctica they would have hens and goats and creatures on board which would be put ashore in order to enable that island to become fertile and in later years to be used and improved on and become a working country providing food and exports back to the British Empire I suppose. Although the Empire was not then considered to be that. So there was a certain feeling of mission very definitely. The other thing is that most of Antarctica they had seen for the very first time and so it was up to Ross to name the various geographical features. So you know he named them after everyone. First of all there were all the lords of the Admiralty who had given him the job. Then there were some of his friends back home. Even his girlfriend. He called a tape after a cape after his girlfriend and a small mountain after his girlfriend's father just to make quite sure he made the point. So that was again that was a bit of sort of nationalistic hubris I suppose. But yeah I think that there was underlying it certainly a feeling that knowledge was important. The more knowledge you had the more successful you would be as a country. Thank you very much. 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 aspetti nella collaborazione di tutta questa comunità scientifica. Sicuramente questa missione venne investita da una sorta di sensazione di missione, c'era questa idea di una missione che si stava per compiere, basta leggere ad esempio dei diversi diari di bordo dove si racconta ad esempio di una piccola isola inesplorata sulla quale avevano orbeggiato appunto la nave e i marinai facevano sbarcare galline, capre, qualsiasi tipo di animale proprio perché poi si riproducessero, si moltiplicassero e rendessero abitabile appunto questa nuova terra inesplorata. L'idea era quella di tornare dopo qualche decennio, di raccogliere i vantaggi di quello che si era fatto, i frutti e di magari iniziare delle esportazioni verso l'impero britannico eccetera eccetera. Però c'era questa sensazione di missione che sicuramente si sentiva e poi va anche ricordato che gran parte dell'estensione dell'Antartide era totalmente ignota fino a quel giorno, veniva vista per la prima volta e quindi Ross si prese la briga di battezzare tutti i diversi pezzi di geografia in cui si imbatteva e quindi diede nomi a montagne, fiumi, prati, innanzitutto volle accontentare tutti i lord dell'ammiragliato che ovviamente gli avevano affidato questa importante missione. Poi iniziò a passare a tutti gli amici, a un certo punto arrivò alla fidanzata alla quale intitolò un capo e una piccola montagna e poi non contento proprio per rendere chiara la situazione e conquistarsi definitivamente la famiglia, decise anche di utilizzare il nome del padre della fidanzata cui anche a lui venne affidato un piccolo monte. Quindi c'era questa sorta di hubris nazionalistica che sicuramente entrava in gioco. Però sotto sotto c'era anche questa sensazione sempre più pressante secondo cui la conoscenza è estremamente importante e più si conquista conoscenza più si può essere un paese di una nazione di successo. In quest'ultima cosa viene sempre raccontato nel libro di Penin che uno dei nomi più straordinari che ha incontrato durante i suoi viaggi è stato appunto nell'Antartido occidentale dove ha trovato la catena montuosa del comitato esecutivo, così battezzata dagli americani negli anni 40. Quindi appena si trovava i nomi anche più incredibili del comitato esecutivo è veramente una cosa. Però ecco andiamo invece al tipo di vita che facevano su queste navi. Che vita facevano i marinai? Come era vita a Bord? Che spazi avevano? Che disciplina c'era? Perché ho letto diritti tremendi che facevano i marinai tra di loro. Per esempio quando si passava l'Equatore c'era un rito di iniziazione veramente brutale. Anche se appunto la disciplina come racconta Penin nel libro era la cosa che serviva a dare un senso, uno scopo a evitare che si facessero degli errori gravi, a dare veramente la direzione nella vita dei soldati e di questi marinai. E ricordiamoci anche che erano uomini che partivano senza la certezza di tornare. Sì, molti cose. È un lungo tradizionato che si crossa l'Equatore. Non so se si hanno una similara cosa in Italian, in Italian ships, ma you have to be, you have to submit to certain sort of humiliations, like having your back coated with black polish and then scrubbed off and even more disgusting things. I've had it done myself and I've been going around the world, so it still carries on. The fact is that I think it's remarkable how successful discipline was on these very long expeditions. Bearing in mind that Erebus under Sir James Clark Ross and the Antarctic expedition, they were away from London for four years. And they made three or four separate expeditions during Antarctic summer, which would have been very, very tough and very, very difficult. And not only were they largely safe and free from injury or disease, I think he only lost four men in the whole of the four years and that was a couple of them falling overboard. They were actually, discipline was very good. The Navy at that time used to use flogging as a punishment. You could get 48 lashes of the whip as a fairly standard punishment. James Clark Ross only used it once in the four years. It was really down to the captains. He was a humane man, but he was quite a stern disciplinarian. But when you think that the ship was about 32 metres long, there were 63 people on board living right next to each other. I think it is quite extraordinary that there was no mass disease, there was no mutiny. By and large they all came back safe and sound from the most difficult and adverse circumstances with a lot of near disasters on the way. Yes, certainly there is this long tradition of long time that suggests that in the moment in which we pass the equator, I don't know if there is also in the Italian marina or something like that, the marinai should be opposed to all these humiliating rituals, doing the bath in the face, and things like that. And I can assure you that I have done it and the thing continues to persist and it is done. But I have to say that the thing that is more degna of note is how the discipline really was followed by these ships, how the discipline had success in this kind of approach very improntated to the discipline. Basti pensate that when Ross capitano l'Erebus nella spedizione in Antarctica, it was durata 4 years, it was then different small expeditions in the arco of an estate and despite this spedizione, it was durata 4 years, there were only 4 victims in 4 years, which is a result extraordinary. They returned, except these 4, sani and salvi, a casa, without having contracted balattie, without having reported particularly serious injuries, because the discipline regnava sovrana a bordo della nave. Soprattutto there was used a method of pulition in the marina in that period, which was the fustigation. Per qualsiasi cosa si prendevano 48 frustate, ma si dice che in quella spedizione, ed era il capitano ovviamente che combinava queste pene, solo una volta venne utilizzata in 4 anni. Questo vi fa capire da una parte quanto Ross fosse umano, per così dire, ma anche quanto la sua disciplina alla fine avesse sortito l'effetto necessario. E non dimentichiamo che questa nave era lunga solo 32 metri e ospitava 63 membri dell'equipaggio. Quindi, e non ci furono ammutinamenti, non ci furono malattie, tornarono tutti a casa sani e salvi da situazioni veramente molto molto pericolose che spesso avevano sfiorato il disastro. Sì, perché dobbiamo ricordare che appunto questa nave va negli spazi estremi, spazi che ancora oggi sono pericolosissimi e vive veramente delle situazioni dove il confine tra la vita e la morte e la distruzione della nave è veramente un soffio. A volte anche, molto fortunatamente, riescono a cavarsi, soprattutto quando si trovano di fronte a questi enormi iceberg giganteschi che si chiudono contro le navi, hanno tentato delle manovre straordinarie e sono riusciti a salvarsi. Adesso volevo invece, per chiudere la prima missione, poi invece parliamo della seconda missione, solamente fare un piccolo momento su un altro personaggio, che è questo medico di bordo, McCormick, che diventa una sorta di refrain comico, perché è uno che appena trova una terra, in qualche modo, adora gli animali, ammira gli animali e non fa altro che lodare Dio per queste meravigliose creature e poi li ammazza tutti, ma fa una strage, nel senso che non ci scappa. E c'è un senso di disperazione, come appunto questo amore per gli animali fosse poi destinato a compiersi attraverso l'uccisione. Ecco, mi sembra che un po' rappresenti lo spirito dell'epoca, in un certo senso. Well, all I can say is thank goodness for McCormick, because he left a diary in a journal, which had lots of spirit and lots of eccentricity in it. He was quite a sort of Monty Python character in a way. He very well described his philosophy, which was to get off the ship as soon as possible, wherever they landed, the more remote the better, and take pictures of the birds, write down the names of the birds, and then shoot them and take them back home as specimens to the museums at home. And I mean, I couldn't quite work this out. It seems to me to be a very ridiculous situation where he says, hello, you're a lovely bird, bang! But I think that the reason behind it was again to do with acquiring knowledge. One has to remember that a lot of the islands, a lot of the places that they went to on this Antarctic exhibition had never been visited before. No one literally in human history had been there. So everything they found there was new and different. And they didn't have cameras. There was no way to film them or anything like that. So if you wanted to bring back evidence of what you had found, you either had to work very fast with your pen and paintbrush, or you just had to bring back a specimen. And that sadly involved shooting them. But as far as I know, McCormack suffered great anguish whenever he shot one of these creatures. He did, particularly with some of the penguins later on, he was very, very upset about it. But he felt that this, he had to do this. And in fact, in a town in England, to this very day, McCormack's specimens with a few holes in the head and the feathers are still around, if you'd like to go and see them. They are kept as evidence of what they found in these remote places. Well, I'm sorry to say that this naturalist, this medico straordinario, because he has left a diario that was really useful to understand what were the events of this expedition. And this diario is full of spirit, of eccentricity, etc. And certainly we could say that he was a Monty Python, anteliteram. This is just a little bit, but I'm sure. And during these stories, in his diario, he describes what is his philosophy, his philosophy of work. And that is, not as soon as the nave attracca, he ships the first possible, wherever you find it, more inexplorated the country, better still, immediately you see an eye, you see a photo, you see a photo, you see a name, and then you spar. Then you collect this exemplary, and you bring it back in England, to use it as an example for a museum. And I'm sure that this is really a ridiculous situation. Ah, that's beautiful that an uccello! Bang! And immediately he shoots. But there was a reason to this, which was to acquire knowledge. This was the purpose of the expedition. We don't forget that many of these terres, these islands, close to the Antartide, on these islands, never met anyone in the history of humans. Everything was new, everything was different. And obviously, not being our heroes in possesso di telecamere per poter filmare, fare dei video, come si poteva fare per dimostrare a quelli che erano rimasti a casa che avevano visto questi esemplari stupendi. Ovviamente, o si era dei pittori particolarmente veloci e quindi con di pochi tratti di pennello si riusciva a raffigurare questo animale, oppure l'unico modo era sparare, prendersi l'esemplare e portarselo a casa. E so che McCormick sicuramente ha sofferto, ha attraversato periodi di angoscia proprio per questo suo modus operandi, soprattutto nei confronti dei pinguini, gli dispiaceva soprattutto per i pinguini, però sapeva di doverlo fare. E addirittura, se siete interessati, c'è una cittadina in Inghilterra dove ancora si conservano questi esemplari di uccelli con qualche foro in testa, vabbè, però comunque li potete andare a vedere, sono le prove di questi viaggi, di queste spedizioni avventurose. C'è questo intermezio appunto di questa sofferenza per l'uccisione degli animali che però non desiste, non fa un passo indietro mai, comunque lui spara, ecco, questo era fondamentale. Ecco, arriviamo invece alla missione per cui l'Erebus poi diventa famosa, che è quella della ricerca del passaggio a nord-ovest. Si conclude appunto con la scomparsa della nave, resta un mistero per 170 anni, e decidono di tentare per la seconda volta il passaggio a nord-ovest, dopo i primi tentativi che abbiamo descritto che non funzionavano, perché, dice Barrow dall'ammiragliato, resta così poco da fare. Bisogna fare poco, ecco, questo così poco da fare causerà la morte di centinaia di persone. Ecco, come si preparano una spedizione? Come cercano di colmare quel poco che c'era da fare? Ecco, intanto per darvi un esempio metteranno sull'Erebus un motore di 25 cavalli, per dare motore a vapore, mentre adesso le navi rompighiaccio ne hanno 40.000 per affrontare i ghiacci, ecco, solo per dirvi la dimensione diciamo dell'impresa. Le aspettative comunque sono quelle di una spedizione eroica. Il nome di John Franklin, che capitenerà la spedizione, è una garanzia di successo, viene detto. Ecco, ma cosa succede? Well, you're right to say that there was an enormous amount of confidence around the expedition to the Northwest Passage, partly due, I think, to the fact that the Antarctic expedition under Clark Ross had been so successful and most people wanted him to continue, but I think what he'd seen in Antarctica had sort of attacked his own confidence and worn him out and he didn't want to go to sea again. So Sir John Franklin takes over, but he is given whatever he wants. There's an enormous amount of money is spent on equipping Erebus and the sister ship Terra, which was going to be commanded by Crozier. Everything was done in quite a hurry because they wanted to get to the Northwest Passage in 1845. The time was short, but it meant that they had really to leave London by May in order to get through the northern waters before the ice reformed. So there was a great deal of urgency. There was not a great deal of sort of careful planning. There was a lot of overconfidence around. There was a feeling if we can get there, we can just do it. As you say, an engine was fitted, but it wasn't very successful. The trials of it were pretty disastrous and there was a lot of smoke and not much movement. And it only moved the ships very, very slowly and was only to be used if they were stuck in the ice and needed to push through. Of course, having an engine like that meant that they had to have coal on board to feed the engine, that gave extra weight. Again, two small ships full, absolutely full of people, equipment, fuel set off. So they saw that this was a well-equipped expedition that couldn't fail. Looking back now with hindsight, you see it was over-equipped and that's why in a sense it did fail. Sicuramente il tratto distintivo di questa spedizione alla ricerca del passaggio nord-ovest era l'eccessiva fiducia, la fiducia in se stessi e in parte perché appunto si era appena verificata nella spedizione dell'Antartide di Ross, capitanata da Ross, che aveva veramente riscontrato un successo planetario. Tant'è che tanti avrebbero voluto che fosse lui a prendere il comando di questa nuova spedizione ma lui l'aveva vista così brutta che aveva deciso di mollare il colpo per così dire e quindi l'elmo viene affidato, il timone viene affidato a John Franklin e in effetti Franklin per questa spedizione può chiedere tutto quello che vuole. Vengono investiti un sacco di soldi proprio per armare queste due navi, la Erebus e la nave sorella Terror, capitanata da Crozia. Tutto però viene fatto in estrema fretta e furia perché l'obiettivo era quello di andare, di raggiungere il passaggio nord-ovest entro il 1845, quindi i tempi erano veramente ristretti, era necessario assolutamente lasciare il porto di Londra entro maggio per raggiungere il passaggio prima che si riformasse poi ghiaccio nella stagione invernale. Quindi c'era questo senso di urgenza, di impellenza e questo è andato a discapito di una pianificazione accurata e questa veniva compensata con una fiducia eccessiva nelle capacità degli uomini e della nave. Parliamo di questo motore che come giustamente ricordato tu è stato montato a bordo della nave. Erano stati fatti dei test, dei collaudi che erano andati veramente a catafascio. Faceva molto fumo, riusciva a spingere, a propellere la nave solo in maniera lenta, tant'è che si era deciso che si sarebbe utilizzato solo se la nave fosse rimasta incagliata nei ghiacci per spingerla verso il mare aperto. E poi se uno ha un motore a bordo deve caricare anche il carbone e quindi peso, fardello eccessivo sul ponte. Quindi abbiamo queste due navi piccole, piene di persone, di equipaggio e con un'apparecchiatura eccessiva. Quello che sembrava perfetto allora invece in retrospettiva col seno di poi ci rendiamo conto che erano delle navi con un equipaggiamento eccessivo e proprio per questo hanno fallito. Stiamo andando in conclusione e vorrei fare un'ultima domanda che riguarda il personaggio femminile di cui avevamo parlato prima perché avrà un ruolo importantissimo nella vicenda dopo la scomparsa della nave. Allora l'Aerebus scompare, nessuno sa niente, si organizzano delle ricerche, ci andrà anche Ross a cercare la nave senza successo e un'unica persona troverà delle informazioni avute dagli Inuit, che è questo John Rai, che non viene creduto perché porta delle notizie che non piacciono alla moglie di John Frank, Jane Griffin, che sarà colei che in qualche modo gestirà l'eredità di questo personaggio, che diventa un vero e proprio mito, un'icona culturale e che probabilmente anche lei lo vedeva in questo modo. Ecco, che narrazione si è creata appunto di questa scomparsa, una narrazione eroica, addirittura Dickens userà la sua penna per aiutare questa versione. Lei Jane Franklin, Franklin's wife is a crucially important character. She was much more forceful and ambitious for her husband than he was. He would like to sit around the table, have a chat, drink some wine. She wanted him to be successful. She wanted him to be powerful. She wanted him to be given credit, which she felt lacked. So she was the one who was really pushing for him to be the captain of Erebus on the Northwest Passage journey, even though he was 59 years old. He was nearly 60 years old. But she pushed him. Their letters show that he was a little bit worried, but she said, go on, you can do it, John. He disappears. The two ships disappear. For two years, no one hears anything about them. And who is the first person to start, to send an expedition to look for the two ships? Not the Admiralty, not the government of Britain, but Lady Jane Franklin herself. And I feel that the key thing here is that she was felt guilty in some shape or form that she made him go to this. And it wasn't going to be a glorious success. So all her huge and undiminished energy went in to finding him. And she financed over 10 years, a lot of different ships and expeditions. She lobbied the Tsar of Russia. She lobbied the President of America. She'd had anybody around, you know, people sort of, I don't think they had the phone then, but, you know. Oh, it's Lady Jane Franklin. Hide under the bed. But she, as you rightly say, took care of his legacy in the end and made sure that he was remembered in Westminster Abbey and a plaque and all that. Rather more so, I'm afraid, than the men who died on the ships who were given rather less credit. But, yes, she kept his name above the water, as it were. E parliamo, infatti, di Lady Jane Franklin, che rappresenta sicuramente un personaggio, una personalità estremamente rilevante. Era una donna che era molto più energetica e molto più ambiziosa del marito, il quale era veramente tranquillo e felice. Bastava dargli una bella tavola, un buon bicchiere di vino, una chiacchiera con gli amici e lui era a posto. Lei invece desiderava ardentemente che lui avesse successo, voleva che gli venissero riconosciuti tutti i meriti che aveva o che magari non aveva e fu lei che spinse affinché lui venisse nominato capitano dell'erebus in questa spedizione nel passaggio a nord-ovest, anche se lui, non dimentichiamo, era vicino alla sessantina, aveva 59 anni. E nelle lettere, in effetti, da queste lettere emerge quanto lui fosse preoccupato per questa spedizione, quanto fosse perplesso. E lei invece lo incitava, ma no, dai John, avanti, ce la puoi fare, muoviti su. E poi a un certo punto le navi appunto scompaiono, per due anni non succede nulla e chi organizza la prima spedizione alla ricerca di questi eventuali superstiti non l'ha miragliato, non il governo britannico, lei, probabilmente anche animata da un senso di colpa perché aveva spinto il marito lungo questa strada. E quindi adesso tutta la sua enorme, inesauribile energia, viene convogliata in queste ricerche, vuole ritrovare il marito e addirittura per dieci anni spende e espande, a destra si inizia finanzia spedizioni, inizia a fare lobby, va a parlare con lo zar di Russia, va a parlare con gli americani, aveva il numero di telefono praticamente di tutti, tant'è che suonava il telefono, diceva chi è? Lady Griffith, scappa, scappa immediatamente, nasconditi sotto il letto, ora ci sta provando un'altra volta. E quindi è proprio lei, come dici tu, chiaramente, che si occupa, si prende cura dell'eredità del marito, fa in modo che lui abbia anche un riconoscimento all'interno dell'abbazia di Westminster e in effetti lui viene glorificato molto più che non tutti gli altri uomini dell'equipaggio. È quella che ha tenuto il suo nome, diciamo così, all'asciutto, bello, lontano dalle acque tempestose. Ecco, e questa era proprio l'ultima domanda perché mi fanno cenno che dobbiamo chiudere l'incontro. E niente, non mi resta che ringraziare Sir Michael Pellin per essere stato qui con noi e credo che, insomma, abbiamo dato, è riuscito a dare un'idea della bellezza di questo libro e di questa storia così avventurosa, misteriosa, che ci porta veramente ai limiti dell'uomo, ai limiti dell'uomo dell'epoca e anche a conoscere quello che è stato il percorso per arrivare a un certo tipo di conoscenza. Mi raccomando, leggetelo, è veramente un libro straordinario. Grazie ancora a Sir Michael Pellin e, niente, buon proseguimento di Festival e buona continuazione. Grazie ancora. Thank you. Thank you. Adivadecci. Grazie. Grazie. Grazie.